Cari Delegati, in qualità di Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, sono onorato di presentare la candidatura di Paola Grizzetti a capo della Commissione Pararoing della Federazione Internazionale di Canottaggio. Per Paola, il Pararoing è una missione. Crede fortemente che tutte le persone disabili debbano avere la possibilità di evocare, di allenarsi, di competere e di sentirsi parte della famiglia del canottaggio. Crede fortemente che il canottaggio abbia bisogno del Pararoing perché rispettare le persone con disabilità dimostra al mondo che diversità e inclusione sono valori forti e che il canottaggio è adatto a tutti. Per Paola, Pararoing è una missione. She strongly believes that all impaired person should have the chance to enjoy rowing, to train, to compete and to feel part of the rowing family. She strongly believes that rowing meets Pararoing because respecting people with impairments shows the world that diversity and inclusion are strong values and that rowing is adaptable to everyone. Paola è entrata nella Commissione Pararoing nel 2005 e da allora il Movimento Pararoing è cresciuto in modo significativo ed è diventato sempre più competitivo. She joined the Pararoing Commission in 2005 and since then, Pararoing Movement grown significantly and become more and more competitive. Grazie al suo impegno, in particolare, che nel 2005 si è svolta a Gavirate la prima regata internazionale di Pararoing, una manifestazione cresciuta anno dopo anno fino a raggiungere una media di 25 federazioni nazionali partecipanti da tutto il mondo. Diventando l'unico punto di riferimento per la comunità Pararoing è uno degli eventi di maggior successo per questa categoria. Paola ha fornito un contributo significativo alla nascita del Training Camp, del programma di sviluppo Pararoing, un progetto avviato nel 2015 e che ancora oggi va avanti con grande successo. She has made a significant contribution to the Pararoing Development Training Camp as a project starting in 2015 and still going ahead with great success. Grazie all'esperienza e alla credibilità acquisita sul campo come capo allenatore Pararoing per diverse federazioni nazionali come classificatore internazionale e come membro della Commissione di Pararoing per 15 anni credo che nessuno più di lei meriti questa posizione perché ha una piena comprensione delle esigenze degli atleti para dei doveri della Commissione e una visione sullo sviluppo futuro del Pararoing. Grazie alla esperienza e alla credibilità che ha ottenuto nel campo come capo allenatore pararoing per un numero di federazioni nazionali come classificatore internazionale e come membro della Commissione di Pararoing per 15 anni credo che nessuno più di lei risponde la posizione perché ha una completa comprensione delle necessità di atleti delle duty della Commissione e della visione sul futuro sviluppo di Pararoing. La sua reputazione la precede la sua passione e la sua motivazione sono ancora più alte che mai e sicuramente è pronta per questo passo. Her reputation precede her her passion and motivation are now higher than ever and definitely she is ready for this step. Per tutti questi motivi sono onorato di sostenere e promuovere la sua candidatura e vi invito tutti naturalmente a votarla. Grazie. Per tutto questo motivo sono honore di supportare e di condividere la sua candidatura e vi invito a votare per la sua candidatura Grazie.